maestra rihanna è ora di svegliarsi amici cari ma è notte dobbiamo dormire maestra rihanna sono le nove è venerdì e i tuoi bimbi ti stanno aspettando sono curiosi di ascoltare la tua storia sono le nove ma i miei bimbi mi stanno aspettando devo raccontarvi la storia forza forza ma perché non mi avete chiamato prima ciao bimbi come state tutto bene voi non avete visto niente vero è che c'è stato un problema e che gli amici animali non mi hanno chiamato ecco perché beh mi hanno chiamato un po all'ultimo e il signore elefante beh bimbi per farmi perdonare ho per voi una bellissima storia che parla di un dragone e della sua amica mela io sono pronta voi siete comodi perché io parto ma